Quattro strutture di pianificazione fiscale internazionale da non implementare, non perlomeno se il tuo consulente non ha superato con successo l'esame di quinta elementare e non ha un QI particolarmente spiccato. Sono quattro strutture particolarmente abusate e che hanno creato a numerosissimi imprenditori, poi diventati miei clienti e quindi di traverso poi anche a me, numerosissimi problemi di risoluzione di queste strutture. Quindi nell'arco di questi ultimi due anni li ho visti abusare troppe e troppe volte e oggi sono qui a condividerle con voi. Se siete interessati, se sei interessato a sapere quali sono queste quattro strutture, a capire se appartengono anche ad una delle cose che hai fatto tu, clicca mi piace, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e abbi la pazienza di aspettarmi al di là della sigla. Ciao, sono Luca Tagliela Tela, sei sul canale Tax Spending Internazionale e evidentemente oggi parliamo di pianificazione fiscale nel vero e proprio senso del termine. Andiamo a vedere quali sono queste quattro strutture completamente abusate nel corso degli ultimi anni che stanno creando dei problemi al limite della irrisolvibilità. E partiamo immediatamente. La struttura probabilmente più abusata che ho visto in quest'ultimo anno è quella di aprire una LLC, Limitability Companies, negli Stati Uniti con residenza fiscale in Portogallo. Facciamo attenzione, è una struttura che va al di là dell'abuso del diritto, è una struttura che si concretizza come Aggressive Tax Planning per chi arriva evidentemente ad una tassazione pari a zero ed è una tassazione ed è una struttura che va contro tutte quante le normative anti-abuso previste dalla ultima TAD, che sarebbe la direttiva anti-abuso dell'Unione Europea. Qui vi ricordo che il Portogallo fa parte, per cui se avete implementato una di queste strutture parlatene immediatamente con uno psicologo o se non con il consulente che ve l'ha fatta aprire. Numero 2, seconda struttura ulteriormente abusata fino alla nausea, fino alla morte è l'apertura di una LLC negli Stati Uniti da Malta, anche Malta vi ricordo che appartiene all'Unione Europea, come tale deve rispettare quelle stesse misure anti-abuso, tra cui il Place of Effect Management e l'Aggressive Tax Planning che sono contrastanti all'interno dell'Unione Europea e quindi gli stessi motivi per cui non è una struttura valida in Portogallo non lo è neanche a Malta. La terza struttura che è stata estremamente abusata al mio modestissimo punto di vista è invece l'apertura di una LLP, limited liability partnership in UK, da Dubai, magari come persona fisica se siamo un digital nomads e neanche per il tramite di una società. Le LLP sono degli strumenti eccessivamente abusati, a burbe condita all'interno del Regno Unito, fortemente contrastati dall'HRMC, soprattutto in assenza di sostanza, cosa che tendenzialmente non avrete, potete soprattutto, facciamo attenzione ai risvolti tecnici, una LLP può crollare da un momento all'altro perché avere un solido conto corrente legato per quanto offline è possibile, online è possibile ma può crollare da un momento all'altro, quindi i vostri sistemi di pagamento come Stripe e PayPal potrebbero darvi un sacco di problemi per essere abilitati, in più il conto corrente se è un WISE per esempio o un Revolut potrebbe essere chiuso da un momento all'altro, per cui pensateci 10 volte prima di aprire una LLP se siete residenti a Dubai. La quarta struttura banalmente che ho lasciato diciamo come cigligina sulla torta in questo breve video per vostre riflessioni e vostri commenti è l'apertura di una UK limited company mentre siamo ancora fiscalmente residenti in Italia, perché è abbastanza diffusa l'opinione che per superare magari l'estero di gestizione basti un local director, un nominì. Non è così, la notizia brutta che voglio darvi in questo ultimo video non mi odierete è che se l'amministratore è un local director ma di fatto siete voi l'amministratore di fatto, cioè quello che poi gira tutta quanta la giossa dentro il suo PC e svolge l'attività è chi risiede fiscalmente in Italia, sappiate che in caso di accertamento ma soprattutto in caso di evasione e quindi lì dove si configurano i presupposti per la determinazione di un reato, quindi di sanzioni penali, prendiamo in considerazione il fatto che la Cassazione ha detto esplicitamente che in caso di evasione o di reati tributari è responsabile l'amministratore di fatto quello che c'è rimasto in Italia e non l'amministratore di diritto, quello che formalmente siede dietro il vostro board nel Regno Unito. Ok? Quindi quattro strutture, quattro pillole velocissime ma dovrebbero bastarvi abbondantemente per accendere il cervello nel caso in cui vi siate affidati a chi ne ha ben poco. Io sono Luca Tagliera Tela, se vi è piaciuto questo video vi ricordo di premere like e iscrivervi al canale e rimanere sintonizzati per nuove e decisive pillole di fiscalità. Alla prossima!